Ciao a tutti ragazzi, io sono Concetta e lei è un ospite speciale di oggi. Lei è Giulia e per questo ospite abbiamo deciso di fare la drink challenge. Spiega Giulia in cosa consiste la sfida. Allora, uno si dovrà bendare. Si, bendare. Io vado a prendere la benda, vai. E qualcuno deve scegliere tre drink e li deve mettere nel proprio bicchiere. E poi si deve indovinare l'ingrediente, gli ingredienti. Se non lo indomini, perdi e ci sarà una penitenza. Ecco, facciami con la benda. Eccociami con la benda.